Riuscirà il nostro Vedat a tornare dall'inferno? Credo di no 7 settimane fuori per il fortunio e questo farà sì non solo che si esca dal blocco titolare Ma soprattutto che probabilmente ci mettano in vendita Quindi, vediamo se la squadra senza di noi sopravvio 4-0, ottimo Vabbè, quello che lo potrebbe E, e, e Io che non capisco perché in questa modalità c'è questa frequenza ignobile di infortuni Che è una roba veramente senza logica Niente, abbiamo perso con l'Empoli Ha segnato cadavere Io non, 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 non mecapacito veramente, non mecapacito Adesso poi sarà risarrabbia, è al solito C'è Reina in porta, anche qui, 2-0 Squadra Si riprende un minimo ma Corbologna Si gioca ogni, ogni, tre ore Praticamente Ci sono momenti di pausa 2-0 Corbologna Eh, abbiamo questi alti e bassi Abbastanza Angoscianti Mister, io tornerei volentieri Ma non Sto gestendo Che poi abbiamo scoperto che Morici la spalla ce l'ha Ce l'ha un po' troppo giù Ecco Ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha la spalla bassa Il nostro, il nostro Vedat Spezia Spezia Lazio 3-1 Tocca a me Mi sono ripreso Quanto mi manca per tornare alla vita Tu guarda quanto mi odia il mister Guarda, guarda L'odio che cresce L'odio che cresce Vabbè, qua ci sfondano No, 2-2 Che direi Ha pareggiato Johnny al novantesimo Questa fa più male del gol di Murgia Oh, me sono ripreso Mister, I'm back Più o meno 3 Che cos'è La cosa di Più o meno o meno Meno o meno Che cos'è più o meno 3 Si è buggato pure quello Vabbè Mister, sono tornato Mister Mister, non Non temere Mister, sono tornato Ma non gioco Ma alleno e basta Allora, è buggato all'allenamento Non mi potevo allenare in realtà Ma Ma sono vivo o no? Più o meno 3 E vabbè Più o meno 3 Gioco mister No, non gioco Ma qual Sono completamente fuori da Dal progetto tecnico Temo Sono diventato una sorta di equazione E cala Eeeh Tanto Sei pronto? Sì ma non mi sta facendo giocare Bergamo Lazio Ah ma neanche proprio Dici sai Giochi No Non No Vabbè Neanche nei ritagli Proprio Non Non gradisce Mister 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 Mi sto allenando bene Mister Oh Più 10 Addirittura Mister Mi sto Rivolgo il posto di squadra Mister Io ci credo Oh Vedi che Sul 1-1 Mi butta di assia Dormisi Gioca Vabbè Mi metto al posto mio Madre santa È tornato Pirata is back Tre passaggi Gold a fuori Vabbè Mister Già le magliette Sono quelle che sono Io faccio fatica Anche a capire Come Come mi chiamo A volte Oh Il primo pallone Dopo una vita Guarda cadavere No Sono carico Mister Sono carico Sono carico Bravo Passa sta palla Invece Mamma mia Con questo fare Storto Mamma mia Che pallascia Però Cioè Veramente Facile fa Da Da Corpa Murici Poi È partito Cadavere Dai Dai Murici No L'avevo Accarezzato Il golletto L'avevo Accarezzato Pensavo Che fosse Che fosse Tutto scritto Affinché Affinché Entrasse Comunque Che Che Adelam Pessimi 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 Programmata Veramente Peggio Dell'anno Scorso Tutto dire Comunque Al di là Delle problematiche Ormai Ben note Prestazione Mediocre La nostra Abbiamo Fatto Tutto Bene Tranne il Gol La distanza Ed era Quello Che Serviva Per Ritagliarci Un posto In Well Partire Decisi No 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 Ma Quale Arsenal No 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 Io sto La stagione Ma la finisco Qua Rivoglio Il posto In squadra 1 a 0 Gol di cadavere Io è dall'81esimo Ormai Siamo Ai margini Mai tanto Quanto Quelli reali Però Siamo Abbastanza Ai margini Ma Perché Dormisi E titolari In questa squadra Ma si può Sapere Cosa ci è Accaduto In che Tipo Di Disgrazia Siamo Finiti C'è Cavolo Noi Stiamo Alla Lamentare Del Nostro Del Multiverso Quelli Che devono Dì Che ci hanno Dormisi Titolare Cadavere No Ma che Ma che Mi libero Bravissimo È mia No Non è possibile Ma non gliela Puoi passare Non gliela Puoi passare Non gliela Possono passare Al portiere Perché le porcherie Mamma mia Mamma mia E pace Su sta palla Cadavere Niente Bastava Appoggino Bastava Io non capisco Veramente Vabbè L'importante 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 È averla portata Via Vittoria Importante Noi non siamo Minimamente stati Protagonisti Ma chi se ne frega Ecco Mettiamola così L'importante È che sia Avvenuto Prestazione positiva No 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 Il Pirata Il Pirata Ar Milano No Dai ragazzi Ma non scherziamo No 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 Il Pirata Che vai a fare Il Vice Il Vice Girù La Quarta Punta Non si può Fare Non si può Fare Vero Lazio Ah Io proprio Non sono Non sono compreso Nel pacchetto Noto Con piacere Che c'è un amore Sconfinato Nonostante le buone Prestazioni Beh Partite Già 5 partite 0 gol E vabbè Quindi Quindi Io Non vedo Non vedo Il dramma Sono titolare Teoricamente Adesso Dai un po' Cortorino Ma la fai giocare Ma la fai giocare Cortorino È mia Vero? No Gioco? Gioco Titolarissimo Cortorio Allora Questa è la partita Della verità Se fallisco qui È dura Il primo colletto Il primo timbro Va trovato Bella palla Per Felipe Vai raccogliere? Oh È porco tutto Però niente Non si riesce Ero convinto Che l'avesse presa Di mano Poi tra l'altro Ti dico la verità Non so come Abbia fatto Toglierla Dalla porta Ma porcia Rigorissimo Batto io Batto io No Ma come Ma fammi Batta a me Ma fammi Batta a me Guarda che sta E' il cucchiaio Gli ha fatti E' il cucchiaio Dei cadavere Bello Bello Ale Bene così Bravo Pipe No Porca miseria Comunque C'ha una sfortuna Sto ragazzo Con il gioco Che è clamorosa Precampionato Di altissimo livello Poi in campionato Completamente spento Non alzica in passaggio Non alzica in tiro Non piva mai la porta Vai Vai Adesso arriva E' da mer tempo Dai Niente Poteva tirare di sinistro Al giro Lui tirava di destra Io Io non c'ho parole Anche Uh Che è? Ma ha segnato Ma perché Ti devi Eh beh Mi raccomando La fa ribatta Il cadavere Effettivamente Oh Gli ha fatto Colletto Dei cadavere Bene Così No Si impiccia Pure Si impiccia Pure Con i stop Si impiccia Si impiccia Pure Con i stop Bel calcio D'angolo Bel calcio Si impiccia Pure Con gli stop Il pirata E' un disastro E' un disastro E' un disastro Ehm Allora Intanto abbiamo dieci passaggi da fare E il sette e mezzo Questo si può Oh è uscito cadavere Meno male Passa Passa Fammi fampare dei passaggi Dai Fammi una gira Sta palla Bravo pirata Manca i passaggi dritti Sai come fa Bello Tiraci però Ma perché Non mi volete far far Guarda sto maledetto Che ti fotte pure i gol Io non c'ho parole Pure Johnny Che ti ruba i gol Adesso A che cosa Siamo arrivati Era pulito Era per me Stavo martellando Stavo martellando Per il passaggio Bravo pirata Sì Almeno l'assist L'abbiamo fatto Ale Il miracolo Il miracolo Alberto Lì non mai Si è completamente Aperto Io però Vorrei fare un golletto Se fosse possibile Attenzione perché è pericoloso La faccio io Eh che cazzo Rola pure il palo No l'ha parata No vabbè ragazzi Ma come l'ha parata Cosa fate Ma fa Ma passami al pallone Una volta Ma perché Nessuno lo può Fa segnare Niente Stanno a segnare Tutti Stanno a segnare Tutti Tranne me Tutti Segnano Tutti Che ansia Sta sempre nel posto Sbagliato È incredibile Cioè neanche per sbaglio Capito nel punto giusto Per tirare in porta È un incubo È veramente Un incubo Riccardo Rodriguez A parte che Stai in Bertolino L'anno scorso Questo Per la tenuta Del campo Però veramente Ci fate Fangorla A me Arpirata Abbiamo bisogno Di questo Per 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 il nostro Umore Bravissimo Oddio Con sta rete Griffata Dall'intramontabile Slater Ibraiovi Ce l'ha detto Sei volte Oggi Niente Soprieta De Johnny Io posso andare In un angolo A piangere Adesso Perché Mamma mia 7-0 Non mi era mai capitato Comunque In In una partita Di carriera giocatore Devo dire E senza riuscire A mettere lo zampino Concretamente In niente Che angoscia Mamma mia Io Io sapevo Che sta carriera giocatore Con Morici Sarebbe stata complicata Non pensavo Così complicata Però Non pensavo Così Onestamente Neanche nei miei sogni Più più terribili Pensavo Che sarebbe stata Così complicata Perché Veramente Cioè Il non riuscire Il non riuscire A mettere Un tiro in porta Serio E stabile È abbastanza Terrificante Locomotive Locomotive Io sono anche stanco Tra l'altramente Quindi questa Però potrebbe essere La partita giusta Sembra Facciamo Fin quando Fin quando Ce la fa fisicamente E poi Poi vediamo Tiè Morici non c'è Alla prossima fase Ah no Eccolo 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 Che classe Che classe Ragazzi Il pirata di smoking Vlogging Cosa No No Che Chi sono No scusate Cos'è Ma Ma cos'è Voglio il replay Chi è sta gente Ma sono fisicamente No Non sono No Ragazzi Ma cos'è Ma cos'è Ma chi sono Ma chi è C'è una faccia Le due Che stanno Ma il cazzo Ci fanno noi qua Ehm Dice Ehi Dice Che è Noi non dovremmo essere qui Ah dici Tra l'altro Fermi Fermi Tutti Ci hanno i documenti Farsi Ci hanno i documenti Farsi Ci hanno i documenti Farsi Ragazzi Ci hanno i documenti Farsi Non ci assomiglia Né uno Nell'altro Hanno i documenti Farsi Hanno i documenti Falsissimi Hanno i documenti Falsissimi Hanno lo stesso Documento Per entrambi E non è ne uno Nell'altro No vabbè Ragazzi C'è qua 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 siamo Siamo veramente Cioè A un livello A un livello Di mestizia E di pochezza Che io credevo Inarrivabile Sono scomparsi Pico e panco Ah che passa Stavano No Sono ancora lì Sciame seria Sto maledetto Tiki Taka Difensivo Che gli è preso Quest'anno De fa in carriera Che sarebbe Veramente Morca miseria Mi fa venire Un veleno Vabbè Ok Inarrivabile No vabbè Questa Partita con l'ospite Io veramente Non Io sono Sono stupefatto Sono meravigliato Sono Io vedo Fa tutta la partita Con questi Cioè Vi prego Dai È troppo È troppo È troppo anche È troppo anche Per loro È troppo anche Per loro Ragazzi È troppo anche Per loro Per pietà Per pietà La cosa più bella Che abbia mai visto In un gioco di calcio Della mia vita Sono ancora lì Cioè Tipo Vecchie Arcantiere Cioè Vi prego È fantastica È troppo bella Ma poi La chicca La chicca Che ti fa capire Che dietro Cioè Che c'è qualcosa Di criptico Dietro Di voluto Sono i documenti Falsi Quello 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 È È un indizio Su questa Apparizione Perché questo Non è un bug È un easter egg Sono ancora lì Sono ancora lì Nonostante la palla Sia uscita Dai Ma quelli valgono Per fuori gioco Comunque Io guardando Questi due uomini Ci tengo solo A ricordare Una cosa Cioè Le interviste Pre lancio Di FIFA 22 In cui annunciavano Che quest'anno Il focus Sarebbe stata La carriera Il giocatore Qui sarebbe Da dire Sipario No Perché effettivamente Devo dire Che quei due Ce lo fanno capire In maniera molto chiara Che quest'anno Il focus È stata proprio La carriera Il giocatore Ma non è possibile Su Occhi ai due Che non vengano Disturbati I nostri ospiti Niente Non ce la fa Non ce la fa Quando deve tirare In porta Per chiuderla Lui non ce la fa Bravo Bravo Sono d'accordo Fallo netto Passa qui Vabbè Non gliela fa Non gliela fare Ma quale bel tentativo Ma che lo prendi Vabbè Bravo Pirata Io ci vado Finisce qui Il primo tempo Nonostante l'invasione Di campo Diciamo che la Lazio Sta Sta tenendo Ah sono sempre lì Stai fanno tutta la partita L'hanno detto Senta Possiamo rimanere Tutta la partita Stai fanno tutta la partita Benissimo Poi mi spiegherete Il senso Di questa cosa Dai 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 Allora siccome qui La mia stamina Sta scarseggiando Io non vorrei Dischiare L'ennesimo Infortunio Cosa fa Cadavere Io intanto Chiedo il cambio Poi c'è la Fiorentina Io vorrei partecipare Visto che Siamo rientrati Un po' Nel circolo Titolare Ma chi No No Stavo per Voglio tirare Niente Ok E' uno Scardabagno Con le gambe Insomma Lento Io non so In precampionato Che cazza roba Ci fosse Ma era Tutt'altra roba Era Agilissimo Poi ricordarlo Ha fatto La tripletta Con La tripletta Con Borussia Dai Non ti è Fortunata Te prego Sì Uscendo Uscendo Dove va Niente Ha spaccato Quei cartelloni Lui è Ce l'abbiamo Uscendo Uscendo Alle porte Dalla Ci vuole Ci vuole Il brivido Della sostituzione Imminente Per farlo Intanto Non si reggeva Più in piedi Se sa come Abbiamo fatto A tirare Bene Cor destro Poi L'invasione Di K Ha portato Fortuna Sì Mamma mia Che incubo Sta partita Ce l'abbiamo fatta Le portate Quello Ma l'ho fatto Gol da fuori aria Non era la fuori aria Bene Comunque Ce l'abbiamo fatta Le portate Quello Ragazzi Io direi Direi che Per ora Questo è tutto Questo tra l'altro È l'episodio di Natale Per cui Buon Natale C'è stata L'invasione di Capo Il primo gol De Morici Un Natale Meraviglioso Quindi Per il momento Ci vediamo qua Ci vediamo martedì Adesso che Si è sbloccato Chissà dove Arriverà Dove arriverà Non lo so Per ora Grazie a tutti.